che c'è? tu sei mangiato con lei? ma cosa sei mangiato? vedi vedi maaa ce la vino da se mangiare maaa vuoi che mi sa mangiare una carabba qui? vedi maaa c'è citto che non è venuto vedi aspetta che c'è spazzione aspetta che c'è spazzione vedi 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 in diretta da domenica questa è colazione di mattina vedi un abbraccio a tutti bellissima vedi chi c'è? uno due tre sti quattro dieci copese ti ho preso la prima volta che vieni su facebook io vorrei capire un noquenza Grazie a tutti.